Gli anni passano, le ipotesi si susseguono e gli eventi legati alla sanguinosa e inquietante vicenda del mostro attraversano le decadi, in un altalenante andirivieni di nuove notizie smentite e oblio. L'avvocato Filastò propone una teoria che già Perugini aveva intavolato, una teoria che vede il mostro come un'entità singola, un unico uomo che sfrutta le persone e l'ambiente circostante. Magari un assassino indiviso, un poliziotto. Anche questa, tuttavia, per quanto plausibile, resta una teoria e nulla accade. O forse così tranquillizza pensare perché in realtà la macchina giudiziaria alle investigazioni, la fatica e l'impegno di chi ancora vuole trovare la verità, porta il caso del mostro di Firenze fino a questo incredibile 2021. Il mostro di Firenze. Fine dell'enigma? È curiosa la morte, non le pare? Quando la gente muore di malattia, sì, sarà crudele, sarà ingiusto, ma è veramente la morte. Ma quando si tratta di un delitto, di un assassino, la morte diventa astratta, come se la soluzione del mistero fosse davvero prioritaria, come se si vivesse in un romanzo giallo. Queste parole che il grande regista francese François Truffaut affida a Jean-Louis Trentignan in Finalmente Domenica, il suo ultimo lungometraggio datato 1983, svelano qualcosa a cui generalmente non si pensa. Qualcosa che, in quanto esseri umani, avviene anche se non ne siamo consapevoli. La morte è come una livella, come la definisce Totò, ma non viene percepita sempre allo stesso modo. Morte naturale o morte violente inducono nelle persone un sentimento differente. E non importa che la morte naturale avvenga magari in tenera età. Sì, una giovane vita persa per malattie o per disgrazia provoca rabbia e smarrimento. Ma è quando l'esistenza di una persona che viene strappata dalle mani di un altro essere umano, allora la morte diventa quasi insostenibile. Si trasforma in qualcosa che è percepita come peggiore, più pesante, angosciante, sconvolgente. Eppure il risultato è sempre lo stesso. Una vita che finisce, un futuro che non c'è più. Ecco, è qui che si cela probabilmente il segreto. Non tanto in quello che è stato, ma in una cosa mille volte più forte, che colpisce al cuore, in quello che sarebbe potuto essere. La forza di tutti quei possibili futuri, innumerevoli, infiniti, un'oceano di scelte e decisioni, di sconfitte e vittorie. Un universo di destini che restano in un potente non detto. In questo, possiamo ritrovare tutti i sentimenti di coloro che hanno perso qualcuno a causa di morte violenta. E pensate all'immenso carico emotivo che ha percorso gli anni in cui il mostro di Firenze ha seminato indisturbato il terrore della sua mano omicida. Immaginate ora cosa possa significare per i vivi non possedere ancora la certezza di avere dato reale e totale giustizia ai propri morti. Perché oggi, nel 2021, dopo 53 anni, è incredibile e sconsolante a dirsi. Ma l'epopea giudiziaria del mostro non è ancora finita. Io sono Massimo Polidoro. Vi do il benvenuto a Uno Studio in Nero, la mia serie dedicata a indagare con gli strumenti della scienza alcuni dei più sconvolgenti e misteriosi gialli della storia. Oggi chiudiamo la nostra inchiesta sui delitti del serial killer più famigerato d'Italia, il mostro di Firenze. Almeno per il momento. Anni di indagini in un andirivieni giudiziario dove si chiama in causa tutto e il contrario di tutto. È inevitabile che scatenino una fioritura di ipotesi fra le più folli che si possano concepire. Inutile soffermarsi su alcune davvero assurde. Ma ce n'è una donna in particolare che si presta a emblema di come è facile inguaiare, se non rovinare la vita, delle persone in situazioni ingarbugliate e incerte come queste. Facciamo un bel passo indietro. Fino al marzo 1995, quando, sul settimanale scandalistico Visto, appare un articolo dove si racconta che una donna, Anna Maria Ragni, non solo conoscerebbe l'identità del mostro di Firenze, ma avrebbe avuto con lui una relazione, che ora non riesce più a nascondere. E chi sarebbe il terribile mostro? Niente meno che lo scrittore, poeta e giornalista Alberto Bevilacqua, pluripremiato autore, tra le altre cose, di questa specie d'amore e l'occhio del gatto. La donna si era rivolta per un consiglio a Gabriella Pasquali Carlizzi, la giornalista romana che abbiamo già visto nei scorsi episodi, quella che attirava spesso su di sé l'attenzione, affermando, per esempio, di possedere rivelazioni clamorose riguardanti vicende come il rapimento di Aldomoro, l'omicidio di Via Poma, Ustica, Gladio, gli attentati dell'11 settembre, e poi visioni della Madonna, improbabili profezie, e così via. La sedicente giornalista accompagna Anna Maria Ragni dal capo della Criminal Pol del Lazio, Nicola Cavaliere, che anni prima si era occupato del delitto di Via Poma, e lui gira la segnalazione ai colleghi toscani. A questo punto la conferma che si tratta di una clamorosa bufala diventa eclatante. La Ragni, un odontotecnica e poetessa dilettante, aveva mandato alcune sue opere a Bevilacqua, per un parere, come spesso capita agli scrittori famosi, e dopo tante esistenze l'autore aveva accettato di riceverla per una mezz'oretta, come lui stesso spiegò ai magistrati Vigna e Canessa che lo avevano interrogato. La donna disse invece di essere andata a letto con lo scrittore, che a un certo punto le avrebbe confessato di essere il mostro. Tanto la Ragni quanto la Carlizzi furono condannate per calunnia aggravata nei confronti dello scrittore, e il direttore di Visto si scusò pubblicamente con lui. Vogliamo riparare all'errore di aver dato voce, ma non certo credito, a rivelazioni che in un secondo tempo sarebbero state marchiate col bollo della calunnia aggravata dai giudici fiorentini. Un gravissimo e grottesco caso di calunnia. Noi comunque, una doverosa, anche se non richiesta, riparazione gliela vogliamo dare, le nostre scuse. E ci mancherebbe anche il contrario. È facile puntare il dito e screditare una persona agli occhi del mondo, specialmente oggi e l'abbiamo visto tante volte negli ultimi anni. A ragione, ma soprattutto a torto. Come contraltare a un'idea folle e senza senso, però, potrebbe esserci un'altra ipotesi, che, secondo alcuni, sarebbe capace di far convivere elementi in apparenza contrastanti. Esistono tanti particolari che sembrano indicare il macabro lavoro di un solo assassino a partire dal 1968, delitti che inizialmente lo portano a sentirsi onnipotente, ma che con il passare degli anni, cominciano a farsi troppo pesanti per riuscire ancora a giustificarli con se stesso. Per questo, negli ultimi tempi, il killer avrebbe cercato più volte un contatto con gli inquirenti. Per farsi scoprire, forse. E per riuscire a smettere. La questione si complica quando, durante questa evoluzione o involuzione, l'assassino magari si avvicina a certi ambienti altolocati, in cui si tengono ridicole messe nere, che più che altro sono un pretesto per orge a tinte forti. Qui il killer avrebbe lasciato trapelare il suo segreto e forse qualcuno sarebbe riuscito a convincerlo a farli partecipare in maniera attiva o anche solo come osservatori esterni al suo operato omicida. E così magari avviene solo per gli ultimi delitti. Ci sarebbero così alcuni, come Pacciani e i compagni di merende, che vengono mandati avanti a fare il lavoro sporco, mentre gli altri restano nell'ombra, a guardare il delitto o a valutare in seguito l'esito finale. Per il killer originale viene ritagliato il ruolo di custode dei feticci, quello che ha iniziato tutto e che ora ha il compito di conservare i trofei. Ma il disagio del mostro non si è mai soppito. Anzi, ormai è troppo grande e gli appelli agli inquirenti si fanno sempre più pressanti e scoperti. A quel punto i membri del gruppo, timorosi che l'uomo possa consegnarsi alla polizia e, nella sua confessione, tirare dentro anche loro, si trovano costretti a eliminarlo. Ecco, in un quadro del genere, ovviamente, si potrebbe benissimo inquadrare Francesco Narducci, di cui abbiamo parlato nello scorso episodio. Nel 1968 il medico di Perugia aveva solo 18 anni, ma sarebbe stato senz'altro in grado di commettere un duplice omicidio. Francesco Vinci aveva anche parlato di un tizio visto con Barbara Locci mentre le faceva certe cose e conosciuto con il nome di Francesco. Dal 1981 inizia l'asportazione dei feticci alle vittime, quando Narducci è già medico e dunque saprebbe molto bene come comportarsi nel prelevare, trasportare e conservare quei reperti. Ancora più curioso il fatto che sempre, nel 1981, il mostro colpisca due volte, il 6 giugno e il 22 ottobre, vale a dire prima e dopo il matrimonio di Francesco Narducci, svoltosi il 20 giugno di quell'anno. Inoltre, tutto quello che dice Filastò sull'ipotesi del poliziotto potrebbe andare bene anche per il dottore Perugino, se questi avesse pensato di travestirsi da agente per sorprendere gli innamorati che voleva uccidere. Ovviamente, andrebbe bene per chiunque avesse voluto travestirsi da poliziotto. Contro Narducci, però, ci sarebbero anche alcune lettere anonime che lo accusano e che, secondo alcune perizie, sembrerebbero scritte proprio da lui, in un tentativo, forse, di trovare il modo per essere curato senza che i suoi amici altolocati lo sapessero. Nel messaggio che l'assassino manda il 1 ottobre 1985 ai tre sostituti procuratori della Repubblica, Vigna, Fleury e Canessa, oltre a un proiettile calibro 22, ci sono due fotocopie. Nella prima si legge «altro errore del mostro. La notte del delitto tutte le strade erano controllate e la sua auto potrebbe essere stata segnalata da un casellante». Nella seconda fotocopia, invece, ci sono le fotografie dei tre procuratori e la scritta «i tre sostituti procuratori della Repubblica» che conducono le indagini sugli scritti del mostro. Sono loro che hanno in mano tutti gli elementi utili che potrebbero portare alla cattura del maniaco omicida. Se fosse stato un'arducce ad aver mandato quelle lettere, quel gesto potrebbe riferirsi al fatto che la notte in cui furono uccisi due ragazzi francesi, la sua Citroën fu vista e la targa segnalata ai carabinieri nei pressi della piazzolla degli Scopeti, a San Casciano-Valdipesa. Se davvero avesse voluto essere preso, questo potrebbe essere visto come un invito agli inquirenti a fare un controllo sulle auto segnalate. O no? Se l'avessero fatto, avrebbero scoperto che il proprietario di quella Citroën si era ferito proprio quella sera. Aveva un'ecchimosi, un occhio e un braccio fasciato. Forse frutto dello scontro con il turista francese? Infine c'è la lettera pubblicata dalla Nazione il 20 settembre 1985, quella che avrebbe potuto decretare la sua condanna a morte. Nonostante nel testo l'assassino dica che non si farà prendere, il tono del messaggio è ben diverso ed è chiaro, agli occhi della presunta setta, che i contatti con la polizia sono diventati troppo frequenti per essere casuali. Così, nel giro di un paio di settimane, lo si attira sul trasimeno con un pretesto, magari quello di scioglierlo dal patto che lo lega alla setta, e lo si uccide, chiudendo con lui tutta la storia. Resterebbe un interrogativo molto interessante, di carattere psicologico. Sempre ammesso, in questa ricostruzione di pura fantasia, è bene sottolinearlo, che fosse effettivamente Francesco Narducci l'assassino, che cosa può essergli successo per trasformarlo nel mostro di Firenze? In un suo libro, lo scrittore Diego Cugia ipotizza che Francesco fosse cresciuto con il mito del padre, un uomo e un modello che non gli appartenevano e che avrebbero finito per stritolarlo. Il padre forse gli incuteva timore perché, scrive Cugia, magari il piccolo Francesco aveva assistito nell'infanzia a una visita ginecologica, una paziente, sua mamma o chissà chi, ricevuta d'urgenza eccezionalmente in casa. Qualcosa, insomma, che deve avere sconvolto il giovane Narducci, a cui poi si aggiunge la scoperta di non poter avere figli. Era un uomo improvetta, continua Cugia nel suo libro. Non poteva amare né riprodursi. Era solo come se soli all'inferno. Chi lo sa. Gli scrittori hanno una fervida fantasia, ma le indagini e i processi devono basarsi su fatti comprovati e documentati. E, come abbiamo visto, alla fine dei conti non c'è proprio nulla che colleghi realmente Narducci al mostro di Firenze. Torniamo, dunque, ai fatti. Siano essi appurati, oltre ogni ragionevole dubbio e suffragati da prove, oppure nati da prove indiziarie. Ecco, questi restano il punto di arrivo e il punto di partenza di tutto quanto. C'è un fatto in particolare che dal 1985 si è trascinato fino al 2020 e riguarda un uomo, Giampiero Vigilanti. Di lui si conoscono molte cose, ma alcune sono poco chiare. Quello che risulta, però, un fatto accertato, è che il suo nome è il numero 38 in quella lista dei sospetti stilata dagli investigatori nel 1985. Ma chi è questo Giampiero Vigilanti? Perché sale agli onori della cronaca tenendo banco fino allo scorso anno? Nato a Vicchio nel 1930, portamento militare, una voce pacata, nel 1952, qualcuno dice 1953, si arruola nella legione straniera e torna dopo nove anni, o cinque a seconda delle informazioni. Le prime incongruenze, come si vede, partono subito da quelle che dovrebbero essere informazioni basilari. Vigilanti, quindi, è un ex legionario con una fedina penale che parla di omicidio e violenze, tracce di depravazione e sembra addirittura che sarebbe stato complice di Pacciani nel delitto della tassinaia, quello del 1951. Secondo Vigilanti, invece, le interazioni con il contadino di Mercatale si limitarono a una bastonata in testa a causa di una lite per il lavoro del padre. Nessuna indagine mai stata approfondita per accertare l'eventualità di un complice, nonostante il fratello della vittima, Luigi Bonini, in un'intervista disse che c'era qualcun altro ad aiutare Pacciani nel portare via il cadavere. Vigilanti conosce anche Salvatore Vinci, fratello di Francesco, uno degli indagati e di cui non si sa più nulla da molti anni. La casa dell'ex legionario viene perquisita la prima volta nel 1985. Poi nel 1994 e vengono trovati ritagli di giornale che trattano dei delitti, armi da fuoco tra cui una high standard calibro 22 e 176 proiettili Winchester dello stesso calibro. Il giornalista Gian Pietro Fiore, che segue la vicenda, intervista Vigilanti quando si scopre essere indagato e, documentazione alla mano, si dice convinto che l'uomo abbia avuto un ruolo nella vicenda del mostro. In una conversazione registrata nel 2017, Vigilanti si sente rivolgere dal giornalista una domanda apparentemente banale. Lei si ricorda quella sera cosa stava facendo in quella zona? Era andato con Narducci a fare un giro? Fiore si riferisce all'ultimo dei delitti. L'ex legionario risponde tranquillamente. Sì, si era andata a fare un giro in macchina, ma nulla di particolare. I carabinieri fermarono Vigilanti e, indovinate un po'? Francesco Narducci, verso le otto di sera, era vicino al luogo dove venne uccisa la coppia francese. Ma è lo stato di agitazione in cui li trovarono a destare la curiosità di Fiore. Perché essere preoccupati di un semplice posto di blocco? Chiede. Eravamo preoccupati perché in queste storie non si sa mai come va a finire. Di quali storie Vigilante parlasse si può solo supporre, in quanto appare strano che già a quell'ora i due uomini sapessero che qualcuno era stato ammazzato. A meno che, naturalmente, non l'avessero visto. O peggio. D'altronde, per molti Vigilanti rientra perfettamente nel profilo fatto nel 1989 dall'FBI. Alto, robusto, con esperienza militare, freddo, misogino. A suo agio sia nelle zone degli omicidi che in quelle limitrofe. Il procuratore Paolo Canessa, insieme al collega Luca Turco, si rende conto che Vigilante sa molto, anche se non lo racconta. Ma dalle sue parole decidono di perquisire anche il medico che lo ha in cura, Francesco Caccamo. Dall'ufficialità dell'indagine, nel 2017, tutto prosegue fino al 2019. Ma prima di arrivarci, occorre fare una sosta a 29 anni prima. È il 1990 e i delitti del mostro si sono fermati cinque anni prima. I carabinieri bloccano per strada il figlio di Giampiero Vigilanti e scoprono che il ragazzo ha con sé una pistola calibro 9. La cosa che li incuriosisce, oltre al fatto che il ragazzo non sa spiegarne la provenienza, è il resto del racconto. Il giovane dice di aver avuto l'arma da un uomo dei servizi segreti militari, per portarla a un altro agente dei servizi. Non è in grado di fare alcun nome, ma tenete a mente questo piccolo episodio, perché ci spostiamo nel 1993, in via Sant'Agostino, a Firenze. In un appartamento, durante una perquisizione in merito a una scoperta avvenuta a causa di lavori di ristrutturazione, le forze dell'ordine recuperano un vero e proprio arsenale. Armi, munizioni, bombe artigianali che ricordano da vicino quelle utilizzate durante gli anni di piombo e il terrore sui treni. In mezzo a tutto questo c'è una scatola con 25 proiettili Winchester serie H, lo stesso tipo di proiettili usati dal mostro. Anche qui c'è una curiosa coincidenza. L'appartamento era una sede coperta del Sismi, i servizi segreti militari dell'epoca, e proprio lì operava il colonnello Federico Mannucci ben in casa, coinvolto nei depistaggi per la strage di Ustica e quella di Bologna. Di nuovo i servizi segreti, ma siamo nel 1993 e l'attenzione è sul processo ai compagni di merende, quindi tutto passa senza clamore. Fino al gennaio 2021, quando la Nazione, il quotidiano di Firenze pubblica un articolo parlando del ritrovamento e di come, nonostante tutto, per la giustizia italiana non c'è un colpevole. Nel 2004 il caso si era chiuso con l'assoluzione degli indagati e il responsabile, chi quelle armi le aveva nascoste, non verrà mai rivelato. Tutto finito, dunque? L'ennesima pista congelata per sempre? Purtroppo, man mano che le tecniche della scientifica avanzano, si scopre la superficialità di certe indagini eseguite negli anni dei delitti. Oltre alla mancata fortuna, commenta l'ex procuratore capo di Firenze Giuseppe Quattrocchi, c'è la maledizione dell'incapacità della conservazione dei reperti e delle scene del crimine. Bisogna fare i conti con quello e ormai credo che non sia più recuperabile. La cosa terribile che emerge oggi è la maniera in fausta con la quale questi rilievi sono stati operati. Vedo la scena del delitto dei francesi e con la logica delle attività investigative di oggi c'è da inorridire. L'ex PM non ha torte. Quella maniera in fausta, quell'incapacità, è dimostrata anche dal ritrovamento, nel 2018, di una ogiva di proiettile sparato dal mostro, rimasta nascosta nel cuscino, raccolto dalla scena del crimine degli scopeti. La prova del DNA non darà alcun esito e il risultato sarà uguale, nonostante il ritrovamento di gruppo sanguigno A positivo, anche sulle buste delle lettere minatorie inviate ai magistrati. Pare, addirittura, ci sia oltre al gruppo sanguigno dei due ragazzi francesi anche una terza traccia di DNA rilevata nell'85, ma nessuno vi farà più riferimento. E non è finita. Vi ricordate il proiettile trovato nel giardino di Pacciani, quello che sembrava incriminarlo definitivamente, anche se poi al processo non aveva convinto i giudici dell'appello, che infatti lo avevano assolto. Ebbene, nel luglio del 2019, una nuova perizia rivela che i segni presenti sulla cartuccia, che avrebbero dovuto dimostrare che il proiettile era stato incamerato nella pistola e poi espulso, erano stati artefatti, costruiti, fabbricati ad arte, insomma. Quel proiettile non era mai stato sparato e viene quindi da chiedersi chi volesse Pietro Pacciani come unico, solitario, colpevole. Una notizia che inevitabilmente rimanda a una lettera anonima, citata anche al processo dall'avvocato Fioravanti, il difensore di Pacciani, ma che era stata dimenticata finché il regista Paolo Cocchi non l'ha ritrovata e pubblicata nel 2018. In quella lettera del novembre 1991, spedita a Fioravanti ben cinque mesi prima delle perquisizioni che avrebbero portato al rinvenimento del proiettile, si diceva esattamente questo. State attenti, avvocati, perché mentre Pacciani è in carcere, qualcuno potrebbe nascondergli qualcosa in casa o nell'orto, capace di incastrarlo definitivamente. Così un capro espiatorio si prenderebbe la colpa e il vero mostro resterebbe libero. Una lettera profetica, come si vede, o forse è la lettera scritta da qualcuno che sapeva davvero qualcosa. Insomma, in un enigma, come quello del mostro di Firenze, le sorprese sono sempre dietro l'angolo, anche se a volte non sono quelle che ci si aspetterebbe. Torniamo così al 2017. Giampiero Vigilanti viene indagato e ascoltato dal PM Canessa molte volte. È ormai anziano Vigilanti, a quasi 90 anni, ma nonostante gli indizi, i trascorsi criminali, le armi, le munizioni, l'auto simile a quella che venne vista la sera dell'omicidio dell'81 e un'impronta che all'epoca fu ritenuta appartenere allo scarpone di un carabiniere intervenuto durante i rilievi sul luogo del delitto. Invece quell'impronta sembra corrispondere alla suola degli anfibi in dotazione, sia all'esercito francese che alla legione straniera. Tuttavia, nonostante tutto questo, nel 2020 l'inchiesta sugli ultimi due indagati, Vigilanti e il suo ex medico, viene archiviata nonostante l'opposizione dell'avvocato Vieri Adriani, illegale dei familiari di Nadim Moriot e Jean-Michel Kravetsvili. Sono passati 36 anni da quel 1985 che segna la fine dei delitti del mostro di Firenze. Anche l'ultima inchiesta è stata archiviata, degli imputati scagionati. È interessante che il magistrato abbia voluto precisare come l'indagine possa essere riaperta in qualunque momento, visto soprattutto che altre due sono attualmente in corso. Quella sui depistaggi, senza però indagati, e quella che ha visto la consegna a maggio 2021 di alcuni documenti ai carabinieri di Firenze, riguardanti il collegamento fra il mostro e il serial killer californiano Zodiac. Ma bisogna dire che suggestioni, forzature e inesattezze ne minano anche la sola presa in considerazione. Vi rimando a un altro mio video, fatto per la Stanza delle Meraviglie, dove abbiamo parlato del caso di Zodiac, se volete saperne di più. Tuttavia, è di pochissimi giorni fa la notizia di una nuova maxi-ispezione nel Bosco di Scopeti, con le ultime tecnologie al fine di realizzare una ricostruzione dei luoghi topografica, con rilievi che comprendono pure la strada e la foresta, per stabilire l'esatta disposizione della vegetazione di un luogo che, in 36 anni, è rimasto pressoché identico a quella tragica notte. La storia non è ancora finita, ma questa puntata sarebbe troppo lunga, quindi ci fermiamo qui e finiamo questa storia venerdì. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.